Danni alle agricolture da parte degli animali selvatici, guerra in Ucraina e temperature elevate stanno creando non pochi problemi al comparto agricolo anche in Abruzzo. Rispetto a un anno fa il mais a uso zootecnico ha fatto un balzo in avanti del 100%, il frumento del 70%, la soia del 50% e l'energia elettrica del 500% e i concimi a base di azoto del 140%. In queste condizioni i conti non tornano anche secondo il comparto con eventuali aumenti del prodotto finale. Presidente purtroppo possiamo dire che il comparto dell'agricoltura sta vivendo oramai da tempo la tempesta perfetta, ci sono i rincari ovunque? Sì effettivamente è proprio così, ormai è un annetto che stiamo assistendo a una forma di rincari sul nostro comparto che spaziano ovviamente dai carburanti ai mangimi, ai concimi, a tutto ciò che comunque è necessario per l'azienda agricola per la conduzione delle operazioni quotidiane. E quindi questo sta mettendo veramente in difficoltà gli agricoltori che faticano veramente a programmare le operazioni di conduzione quotidiana ma soprattutto a lungo termine hanno una grande difficoltà a capire come e dove operare. La CIA all'Aquila Teramo chiede un intervento immediato anche per bloccare il proliferare dei cinghiali e fermare la diffusione della peste suina africana che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di allevamenti di un intero comparto strategico che genera un importante fatturato nella nostra regione e garantisce occupazione. Chiediamo con forza un intervento dell'autorità perché comunque è un comparto che è già in difficoltà per gli aumenti di cui parlavamo prima e se ci aggiungiamo pure a questa emergenza sanitaria è un comparto che difficilmente reggerà il colpo poi. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto poi si ripercuote sull'aumento dei prezzi per i cittadini. Come tutte le cose è una cadena, non è che l'agricoltore gioisce di questo tipo di aumenti che si sono innescati perché assolutamente se andiamo a fare il conto proprio della serva all'interno delle aziende agricole a fronte di questi aumenti in realtà il bilancio a fine anno si chiude in maniera negativa perché poi quello che permette di recuperare il costo aumentato del prodotto finale sicuramente non è proporzionato agli aumenti in entrate in azienda. e quindi ovviamente il cittadino piange ma l'agricoltore sicuro non ride.